Siamo molto soddisfatti perché c'è una risposta mostruosa su questo lavoro da tutta Italia, non solo dalla provincia di Varese. Qui, come potete vedere, c'è il lavoro del liceo artistico della classe seconda A, che in 19 ragazzi più le insegnanti sono venuti a aiutarci a cucire le coperte perché ce ne sono ancora tantissime da cucire. Siamo in questo momento a 1200 coperte pronte che estenderemo in Piazza Repubblica. Il ricavato totale va ai centri antiviolenza che fanno capo alla rete interistituzionale del Comune di Varese. Un grosso ringraziamento va davvero al Centro Commerciale Le Corti, al Consorzio, alla direttrice Sonia Motta, alla Caterina, vicepresidente del Consorzio, che veramente ci sostiene anche economicamente, ci ha aiutato ad esempio a comprare i calzari, le spille, ha dato anche il suo forte contributo.